Giuseppe Marza, Inter Juventus. Zanetti dal Piero Capetani. Tu scamo da Nesichelini. Cosa è niente Buffona? Maicon, Lucio, Stankovic. Maicon, Lucio, Stankovic. Maicon, Lucio, Stankovic. Diokitti, So vilentlessly chewed for 2, never stop米ing. The balls are closing in. You can hardly breath. It's absent and all over again. But there are eyes everywhere. His eyes are familiar, 76. Tiago Motte! Sa distance no, Spoko Šarrieta, nisamo iubranili Buffon». Inter vodi 1-0. Non c'è l'inter, non c'è l'intero che ti amo per il gol per il gol per il gol per il gol di Inter. Inter è giro per il match di Juventus 1-0. Ecco, attaccia Milito, lopta per il Eto, è stato proprio il corso di Canavara e Cagliini. Otro gol è stato qui è stato molto bufono, ma il mota è stato proprio il gol per il gol. Buffoni non è stato proprio il gol, non è stato proprio il gol. Siamo arrivati da Jagomota, 1-0 da Inter. Siamo arrivati da Poteza e Poteza. Moda, maestro. Siamo arrivati da Poteza. Siamo arrivati da Milita. Milita, Milita e Goma Brani. Siamo arrivati da Lucio, Milita, Milita, Ponte, Ponte. Siamo arrivati da Juventus. Del Piero, del Piero, Otto Sardino, Camoranezia. Odličan Poteza, ma solo da Statibe. Prostor gol, 1-1 da Cambiaso. Del Piero è passato. Ponovo po piru, del Piero. Otto Sardino, Giulio Cesare, una Camoranezia u Promeši. Uži. Sada Giulio Cesare. Cambiaso è passato. Sì. 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 Sì.